Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per un altro fantastico video Oggi sarà un video un po' diverso perchè ci sono state tante novità, tante news di cui parlare E quindi volevo perdere un video, perdere no, sempre in compagnia siamo, però per parlarvi un po' delle novità Allora, sono state annunciate ben due nuove navi premium che stanno per arrivare Io immagino che arriveranno o con i cruiser inglesi francesi o appena dopo, comunque stanno per arrivare Allora, abbiamo come prima la corazzata leggera HMS Hood che in realtà era un incrociatore pesante Era classificato come incrociatore pesante, quindi immagino che essendo stato convertito Dato che comunque non c'era classificazione incrociatori pesanti sul gioco, si è stato convertito in corazzata tier 7 ragazzi L'HMS Hood, per chi non lo sa la Hood è la nave che si scontrò contro la Bismarck e fu detonata e venne affondata dalla Bismarck Nave molto storica, sicuramente è un bel partito, potrebbe essere interessante andarla a comprare ragazzi Ma per chi è appassionato di collezionismo, è ancora chiaramente della nave, non si sa niente Andiamo ad analizzare velocemente Abbiamo una propulsione di 31 nodi, quindi è una corazzata veloce Bene Poi abbiamo 4 torrette da 381 mm Molto simili alle torrette della Tirpitz, perché la Tirpitz è un 380, questo è un 381 Staremo a vedere se sono cannoni efficaci Poi abbiamo per 4, io penso ci siano 4 tubi lanciassiluri ragazzi Perché per 4, immagino per 4 tubi lanciassiluri Non male, nel senso sicuramente è una nave molto molto interessante E anzi, direi che può essere interessante Si vocifera perché la Hood aveva un sistema di difesa missilistico Aveva un sistema di difesa missilistico sperimentale Che non era affatto Che non era affatto male ragazzi Io non vorrei che potrebbe avere come consumabile l'antiaerea proprio Oppure questo nuovo sistema di difesa aerea fatto con i missili Non lo so ragazzi, non vorrei dire stupidaggini Staremo a vedere, staremo a vedere Però, vedete, vedete su AA Guns, come potete vedere C'è 178 mm Rocket Launcher Chissà, magari avremo un nuovo tipo di consumabile per la Hood Antiaereo, chi lo sa Oppure avremo semplicemente il consumabile antiaereo da poter usare sulla Hood Nave, sembra interessante, staremo a vedere ragazzi Speriamo, beh, speriamo che dia soddisfazioni Allora poi Sempre in uscita, non si sa quando Però sicuramente non dovrebbe essere tanto lunga l'attesa Abbiamo la Kaga La portieri giapponese che, se non lo sapete storicamente Partecipò all'attacco a Pearl Harbor All'attacco alle Midway Che fu affondata alle Midway E... nave storica di tutto rispetto E... forse sicuramente ci voleva questa nave Per andare a... per abbilanciare lo strapotere della Saipan E... quindi bisognerà vedere come la imposteranno Immagino che sarà un po' come la Saipan Abbastanza OP Perché giustamente la si paga e deve essere OP ragazzi E... però spero che... Perlomeno vada un po' a bilanciare Quindi non ci troveremo in future Ranked Se ci saranno Ranked T7 Non ci andremo a trovare solo Saipan O Ryugio Ma... forse potremo avere anche... anche lei Ecco E... per adesso Io di base non sono... Esperto sulle navi... sulle portieri Però a vederla avrà una velocità di 28 nodi Avrà 10-200 mm Avrà una... 25 mm... 28-25 mm E 16-127 mm di antiaerea E avrà 90 aerei ragazzi Avrà una scorta di 90 aerei Immagino sempre... A vederla qui sembrerebbe... Uno... Uno, due, tre, quattro... Cinque gruppi di aerei forse Ma... forse dico una stupiraggine ragazzi Quello che vi dico... Potrei sbagliarmi Bisognerà vedere anche se... Come la si può settare A vederli sembrerebbe... Uno, due, tre, quattro... E questo... Cinque... Cinque gruppi di aerei O quattro... Ma io non credo cinque Perché cinque mi sembrano troppi per un tier 7 Forse saranno qua Vabbè... Qui non sono io molto esperto di portieri ragazzi Quindi... Prendetelo per quello che vi dico Ecco... Tutto qua... E... E niente ragazzi Quindi... Ottimo... Si vanno a unire queste navi premium Con quelle che stanno... Sono già state presentate prima Ne abbiamo già parlato La... La Duca d'Aosta Che arriverà È stata presentata... Cioè... Si sa che uscirà ma ancora non ci sono Layout Della Roma Che però si presume che esca verso... Eh... Verso la fine dell'estate ragazzi La Duca d'Aosta invece dovrebbe essere imminente Con l'uscita si presupponeva con dei cruiser francesi E quindi anche quella sicuramente non male ragazzi Poi abbiamo... Ehm... Altre novità ragazzi Dal punto di vista... Della... Della nuova patch che sta per uscire La 06.3 Allora... Arriveranno dei pesanti nerf... Ehm... Allo stile di gioco Ehm... Che non è che riguarda gli esperti che giocano a tier alti Riguarda chi gioca a tier bassi Il nerf riguarda... Ehm... Il gioco delle porteri Se non ricordo male Se non ho letto male Dal tier... Il tier 4 e il tier 5 delle porteri Vengono nerfate Impedendo... Ehm... Il lancio manuale Dei... Scusate... L'attacco manuale dei caccia ragazzi Ehm... Questo porterà... A un... A un grosso appiattimento del gioco A tier basso Perché... Allora... Io sono... Sono... Non mi è piaciuta questa cosa Io non le gioco le porterie Ehm... Premetto Però... Questo impedisce ai neofiti di allenarsi Con dei tier bassi Perché se voi non potete droppare solo in automatico Date uno un grosso vantaggio agli avversari È anche vero che Ehm... Questa cosa io penso sia stata fatta Perché... Magari molta gente esperta Va ai tier bassi con la porterie Per fare le stragi Dato che comunque Ai tier bassi Le antiaeree O non esistono proprio O sono minime Ehm... Quindi la porteria Un giocatore di porterie Esperto sicuramente Ehm... Fa la differenza in battaglia Assolutamente Ehm... Posso rendermene conto Però è un problema Che può avere Che con tutte le navi Un giocatore rank 1 Che si mette a giocare a rank 4 Con un destroyer E se è esperto di destroyer È chiaro che fa le stragi Come è se lo fa con una corazzata Mh... Io questa scelta della VG Non mi è piaciuta Ma... Semplicemente perché impedisce A chi è neofita Di esercitarsi Devi aspettare il tier 6 Per poter iniziare a fare I drop manuali Ehm... Vabbè Uno non si può addestrare ragazzi E secondo me è un po' Mh... È un po' sbagliato Questo Ehm... Sicuramente faciliterà il gioco Per chi non... Per chi è poco esperto E non gioca le... Le porterie E gioca Corazzata I cruiser Che si ritrova delle Porterie abbastanza Sì Fanno danno Possono fare danno Ma Non poi così In maniera così grave Perché comunque sia Non potendo fare il drop manuale Sono abbastanza Sbilanciatine Ecco Ehm... Peccato Assolutamente peccato Perché Ehm... Esta... Secondo me è una scelta sbagliata Dvg Io avrei Semplicemente Aumentato L'antiaerea Delle navi Tier basse In modo da Ribilanciare un po' La situazione Tutto qua Però Se loro hanno preferito Andare a A nerfare Proprio Il drop manuale D'accordo Ehm... Lo accetteremo Ragazzi Speriamo di Ehm... Dico Speriamo che questo Non sia un problema Che si Si rivolterà contro In futuro Ecco Nel senso Ma non credo Alla fine Beh uno non è che non muore Se non può usare a tier 4 A tier 5 Ehm... I drop manuali Penso Però Comunque sia È un brutto nerf Se io giocassi I portieri Un po' Mi arrabbierei Perché Ehm... Sono state Rese abbastanza Sbilanciate A quei tier Ecco Ehm... E un altro Invece Ehm... Nerf pesante Se non ho letto male Non è più Non sarà più Possibile fare A tier 4 E a tier 5 Il... Il... L'invisible fire Ragazzi Se non ho capito male Praticamente Verranno nerfate Le navi In modo che Comunque sia Non possono fare Invisible fire Ehm... Perché evidentemente Ci sono delle navi Che Ehm... Con le skill Del capitano A pieno skill E... E tutto quanto Riescono a fare Invisible fire E chiaramente A tier 4 Tier 5 Ti metti a fare Invisible fire Un giocatore Inesperto Che non sa neanche Che cos'è È chiaro che Lo mettete molto In difficoltà E quindi Anche questa cosa È stata portata Sul... Sul gioco Ed è Sarà impossibile Fare Invisible fire Per carità Ehm... Ripeto Sicuramente Evidentemente La gente Si lamentava Tanto Di ritrovarti Giocatori Molto esperti E tier bassi E che Ammazzano il gioco Immagino Assolutamente Io di solito Non scendo mai Sotto il tier 6 Quando gioco Ehm... Ma non Perché Anche perché Non mi diverto io A giocare di tier bassi Però Posso Immaginare Che può diventare Frustrante Per un giocatore Che Non ha esperienza A ritrovarsi Che gli sparano E non vede neanche Chi lo spara O Porteri Che ti droppano A 2 cm E ti devastano Cioè Posso Posso capirlo Assolutamente Staremo a vedere Se questo Se questa Novità Migliorerà Il gioco A tier bassi Per i neofiti Chiaramente Perché questo è stato È più un nerf Per i neofiti Che per le persone Esperte Chiaramente Ehm... Comunque ecco Ci sono tantissime Novità Ehm... In arrivo Ehm... Poi Non so se con questa patch Sulla 0.6.3 Ma non credo Forse più avanti Stanno per arrivare Anche i cruiser francesi Come avevamo già detto Su il video precedente Ehm... Anzi Vi invito ad andare a vedere Il video precedente Se volete andare a vedere Ehm... Come sono fatti Ehm... Le classi Le classi E la conformazione Delle navi Ehm... E niente ragazzi A questo punto Noi finiamo qui Ehm... Poi vedrò Se caricare anche un gameplay Oggi Tanto per farci due risate Tanto questo è un video È un video diverso Però adesso vedo Ehm... Se no Ci ribecchiamo domani Vi ricordo Mettete un bel mi piace Per aiutarmi a crescere come canale Ehm... Condividete Commentate sotto Se avete Delle riflessioni Sulla patch Sulla nerf O se volete Discutere con me Delle Delle due nuove Navi premium Ehm... Scrivete e commentate Sotto al video Io Cerco sempre di rispondere a tutti Così mi aiutate anche A crescere come canale Ciao a tutti Ciao a tutti